Buongiorno, non pensavo ti alzassi presto visto che sei tornato tardi da Los Angeles Beh, volevo raccontarti com'era andata prima che uscissi Allora racconta, grazie Vaci piano, l'ho fatto bello forte Ok Sì, questo caffè risveglierebbe un morto Ti renderebbe il lavoro più facile La vittima ti dice sì, mi ha ucciso lui, caso chiuso Cazzo, l'immagino che tu abbia scoperto qualcosa sulla tua scomparsa E che sia su questo che tu mi voglia aggiornare Sì, in effetti è così Però poi ho pensato, perché prima non mangiamo? Oh, hai brutte notizie? Toc toc, sei presentabile? Mamma Ciao, bentornato a casa tesoro Che magnifica sorpresa, anche se avresti, beh, avresti potuto avvisarmi Non volevo disturbarti nel caso ho ancora dormito Oh tesoro mio In realtà pensavo di entrare di nascosto e preparare al mio giovanotto una bella colazione Oh, beh, vedo che mi hai battuta sul tempo Sì, ecco io Aspetti qualcuno? No, no, è solo l'abitudine Sei venuta fin qui solo per prepararmi la colazione, perché non è da te Ok, mi hai scoperta In effetti ieri pomeriggio mi è arrivata la copia in anteprima del mio libro e volevo fartela vedere Consigli non richiesti di Martha Rogers Mamma, sono così orgoglioso di te Ti ringrazio, dai, leggi la dedica Per Richard Senza i tuoi continui passi falsi nella vita dare consigli non sarebbe stato possibile Continui passi falsi Non prenderla sul personale Un secondo Ciao, dove sei? Fuori Sono uscita dalla camera da letto Ti immagini che assurdità Abbiamo nascosto la nostra relazione all'Oxat e ci facciamo scoprire da tua madre Vogliamo pranzare insieme così mi racconti di Los Angeles? No, no, non c'è fretta, meglio vederci stasera Ok, ora devo andare Ciao, amore Ciao Dunque, ti stavo dicendo